Buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo video sul mio canale Easy Trading. Torniamo a parlare nuovamente del Nasdaq. Perché? Perché nella notte i mercati hanno in qualche modo invertito la tendenza, quindi il mercato asiatico ha avuto meno panico di quanto non avessero avuto i mercati americani ieri, che hanno chiuso a meno 6% più o meno tra Nasdaq, SP e Dow Jones, a meno 5,90 il Nasdaq, a meno 6,90 il Dow Jones e sempre 5,90 anche lo Standard & Poor's. Cosa succede oggi? Oggi siamo sul future ovviamente perché i mercati americani sono ancora chiusi, intanto le bolse europee stanno rimbalzando, chi più e chi meno, dallo 0,50 all'1% a seconda dei paesi. Il future del Nasdaq in questo momento segna più 1,69% e guardate cosa sta facendo. È rimasto ancora sopra la media esponenziale a 21 periodi, su cui è andato ad appoggiarsi ieri e sta al momento rimbalzando. Quindi il trend di massima resta comunque positivo, malgrado il grande sell-off di ieri con questo candelone enorme e in più c'è da dire che oggi è venerdì, quindi c'è da fare un po' di attenzione a quello che possono essere le varie posizioni che potrebbero chiudersi perché di solito il venerdì ci sono molti trader che tendono a chiudere le posizioni, quindi bisogna fare attenzione. Comunque, torniamo a parlare di questo sell-off. Questo sell-off è stato molto molto pesante, molto molto importante, non c'era un sell-off così da un bel po' di tempo. Vedete, dobbiamo tornare indietro probabilmente. Ecco, guardate, questo è stato ancora più pesante, ma siamo tornati su questi sell-off qua, quando tutti vendevano tutto qualunque cosa, criptomonete, commodities, azionari, non si salvava nulla. E ieri per, diciamo, qualche ora si è vissuto lo stesso panico che c'è stato qualche mese fa, un paio di mesi fa. Cosa è successo? La paura in generale dei mercati non è stata tanto dovuta alle parole di Paoli, che comunque è rimasto molto colomba, come si suol dire, quindi ha rassicurato sull'operato della Fed, anche se è stato molto cauto sui regimi di crescita dell'economia americana. E più che altro i mercati sono spaventati per l'aumento dei contagi negli Stati Uniti, che sono tornati a livelli veramente preoccupanti. E questo dovuto a cosa? Molto probabilmente molti sono dovuti anche alle manifestazioni che ci sono state in queste settimane, molti possono essere dovuti anche a un'eccessiva elasticità nella riapertura di alcune attività, di alcune situazioni che possono aver favorito il contagio. Poi c'è sempre il problema di questi numeri, che non sono poi così reali al 100%, perché dipende sempre molto dal numero di tamponi fatti, da chi li fa, da quando li fanno, se vengono considerati tutti, oppure quelli che rimangono a casa non vengono neanche, tra virgolette, tamponati, nel senso che non gli viene fatto il tampone. Per cui sono numeri comunque che lasciano un po' il tempo che trovano, ma di certo la situazione è ancora ben lontana dall'essere risolta. Comunque, grande paura ieri sui mercati, grande candela rossa, grande discesa e oggi rimbalzo. Quindi cosa possiamo attenderci per la giornata? Innanzitutto dal punto di vista tecnico diciamo che si sta comportando, il Nasdaq continua a comportarsi come da manuale. Vedete che si è instaurato qui sopra la media 21 periodi, e soprattutto continua a seguire questo trend rialzista. Dopodiché diciamo dal 6 aprile, quindi da più o meno due mesi fa, non è più sceso sotto, anzi ha continuato, come vedete, a rimbalzarci diverse volte. E quindi questo ci fa pensare che al momento, finché resta sopra questa media, il trend può essere considerato ancora abbastanza positivo. Dove se scendere sotto questa trend line, dovremmo andare a cercare i primi supporti. E i primi supporti, vedete, li possiamo trovare più o meno qua, intorno ai 9000, dove c'è sia questo vecchio POC di qualche mese fa e dove c'è questa lateralizzazione del mese scorso. Dopodiché scendiamo ancora e andiamo verso quest'area qua e quindi andiamo anche dove c'è la media esponenziale. Questa è a 200 periodi, questa è a 50 periodi, quindi siamo intorno agli 8500. Quindi ce n'è, diciamo, di ipotesi da poter fare. Se poi vogliamo essere ancora più catastrofici, prendiamo Fibonacci, ci andiamo a segnare un bel ritracciamento da qui allo Subingai e prendiamo come area di riferimento il 38,7 e il 61,8 e come potete vedere siamo tra 8,7 e 8,100 e quindi siamo ancora più o meno in quest'area qua. Vedremo come si comporteranno oggi. Per il momento l'apertura è prevista positiva, ci saranno quindi probabilmente dei rimbalzi. Fate però attenzione perché siamo stati più volte abituati a delle trappole di questo tipo dove rimbalzi tecnici si sono trasformati poco dopo l'apertura in profondi ribassi. Comunque, staremo a vedere. Oggi ho visto alcune notizie che pongono al centro dell'attenzione la Johnson & Johnson, società farmaceutica molto famosa che tutti conoscono, perché stanno accelerando i test del vaccino sugli esseri umani e questo ha portato comunque a contribuire un pochino a questa ventata di ottimismo di oggi che c'è sui mercati. E che altro? Andiamo a vedere invece come si stanno comportando, come si sono comportati i vari indici. Quindi partiamo dello standard Empura, quindi dell'SP500, prendiamo il future, tanto uno vale l'altro, vedete che candelona rossa. Qui addirittura è andato a toccare esattamente, guardate, questa è la media a 200 periodi, ci si è andato a fermare proprio sopra. Quindi ha fatto proprio un ritracciamento, come dire, tecnico e si è fermato esattamente dove ci si poteva attendere che ci si fermasse, o sulla media a 21 periodi, vedete, o sulla media a 200 periodi. Ed è andato oltre la media a 21 periodi, che ha comunque usato per diverse volte, vedete, come supporto, seppur non tenendola, come ha fatto il Nasdaq, a pieno, poi, dopodiché, però, la media a 200 periodi l'ha sentita molto molto bene. E al primo momento segna, diciamo, si è appoggiato qui sopra. Allora, vediamo se possiamo vedere qua, questo forse non è il prodotto migliore, vediamo, guardiamolo su, allora, guardiamolo sul mini, prendiamo questo, vediamo, eccolo qua. Andiamo sul mini future, vedete che sul mini future ci fa vedere la pre-market, quindi il future, questa è la pre-apertura, e vedete che anche qua siamo al momento positivi, siamo sopra i 3.000, siamo a più 1,62. Vedete comunque come la media a 200 periodi ha fatto sì da supporto, ma ha fatto da supporto anche il livello storico, diciamo, di 3.000 punti, che era un livello di attenzione molto importante, su cui si è andato ad appoggiare. Andiamo a vedere anche l'indice Mib italiano, per vedere un po' come, allora, prendiamo questo, ok, e vedete che qui siamo, questa però è la chiusura dell'11 giugno, vediamo se c'è, andiamo a vedere se c'è, il Fuzi, non mi ricordo mai quale usa, FTS, il Mib index, eccolo qua, ok. Ok, no, anche questo è quello sbagliato, scusate ma non mi ricordo mai qual è quello, sì, questo è quello di UK, ma questo è, ah, ok, eh, vabbè, niente, questo non è quello aggiornato, adesso non mi ricordo dove è, il Fuzi, il Fuzi, il Mib, questo no, questo è di UK, vabbè, pazienza, adesso lo vedremo un altro giorno, adesso poi devo ricordarmi dove sta, però possiamo invece guardarci, scusate il caos, possiamo guardarci invece l'Eurostock, che, ah, guardiamo, guardiamo, guardiamo questo, va bene, lo stesso, guardiamo l'Eurostock, che comunque, come potete vedere, oggi sta rimbalzando, e sta rimbalzando anche abbastanza bene, più 3,2, e comunque vedete che è ancora dentro questo canale, tra la media 200 periodi e la media 50 periodi, ed è rimasto sopra la media 21 periodi, vedete come gli indici comunque hanno sentito un po' queste medie esponenziali e queste medie semplici, quindi tutto sommato, diciamo, i sell-off che ci sono stati ieri sono sembrati abbastanza controllati, quasi quasi un po' pilotati, se volete, dove molto probabilmente molti algoritmi di trading si sono fermati esattamente dove dovevano fermarsi. Detto questo, torniamo un attimo sul nostro Nasdaq, e lasciamolo lì. Dopodiché andiamo a vedere un pochino qualche azione, qualche coppia di valute, allora andiamo a vedere innanzitutto Fiat, che oggi, vedete, è tornata a rimbalzare sulla media a 50 periodi, e in questo momento sta tornando su, dopo le grandi discese degli ultimi giorni, vedete, era arrivata addirittura a 9,5, poi è tornata indietro, e adesso è rimbalzata sulla media a 50 periodi. Andiamo a vedere anche un'azienda di cui si sta parlando molto in questi giorni, perché l'Aston Martin ha fatto un grosso salto nei giorni scorsi, e ieri in quegli ultimi 2-3 sedute aveva avuto dei pesanti ribassi, e adesso vedete che qui, tra l'altro abbiamo un trade aperto molto interessante, vedete anche qua, Aston Martin ha rimbalzato esattamente sulla media a 21 periodi, ve la faccio vedere qui, eccola qua, vedete, e in questo momento oggi sta tornando un pochino su, staremo a vedere se prenderà la strada di tutto il resto dei listini e continuerà la sua salita. Guardiamo anche le compagnie aeree, guardiamo in questo momento Lufthansa che ci dà un po' il polso della situazione, anche qui vedete, siamo più o meno sulla stessa situazione, ieri è aperto con un grosso gap, andando ad appoggiarsi anche qui, sulla media a 21 periodi, per poi risalire, e idem, oggi, vedete, ripartita leggermente in più in basso rispetto alla chiusura di ieri, ma sta recuperando con un discreto più 4,68%, e quindi resta valido, diciamo, il mio target di vederlo arrivare all'inizio, almeno ai 13, dopodiché saremo a vedere, qui c'è questo gap qua da recuperare. Andiamo a dare un'occhiata alle valute, le valute, allora, qui abbiamo un po' di situazioni particolari, perché abbiamo l'euro che si sta indebolendo, e quindi tutte le valute che cross sull'euro, andiamo a vedere, ad esempio, prima, euro, USD, stanno riguadagnando terreno in qualche modo, tranne il dollaro, che probabilmente sembra essere ancora più debole rispetto all'euro, e vedete che in questo momento gli euro-dollaro sono ancora incastrati in questa tratta tra 1,30 e 1,40, vedete, sono ancora da qualche giorno incastrati qui dentro e c'è molta indecisione. Mentre rispetto alle altre valute, se prendiamo euro-dollaro australiano, e poi vediamo anche l'euro con la sterlina, vedete che dopo la bella candela di ieri sul dollaro australiano, oggi sta un po' ritracciando. Staremo a vedere, qua la mia idea in realtà è che possa superare di nuovo la media 21 periodi e riportarsi verso la media 200 periodi, anche se sembra che stia faticando più del dovuto. Guardiamo anche qua, guardiamo un attimo, euro-GBP, in confronto con la sterlina, e vedete che oggi è un pochino indeciso, vedete, non c'è poca forza, diciamo, rispetto alla sterlina dove qui è ancora intrappolato, diciamo, dentro questo canale. Anche qui la mia visione di massima è tendenzialmente rialzista sulla sterlina, con ieri abbiamo chiuso un bellissimo trade a 0,90 qua, un bellissimo long preso da qui e chiuso qua sotto, poi sono rientrato sulla discesa della coppia, ma sono rientrato probabilmente troppo alto e adesso in questo momento, dicevamo, sta un po' soffrendo lo slancio di ieri ancora, quindi qua resto in attesa. Stop loss abbastanza basso, più o meno sulla media 21 periodi, e target di nuovo intorno al 0,90 e possibilmente anche un pochino più su, diciamo, 0,90-50. Staremo anche qui a monitorare perché la situazione non è ancora ben chiara. Oro. Allora, finalmente l'oro rimostra di nuovo i muscoli. Come qualcuno ieri mi aveva chiesto qual era la mia visione sull'oro. La mia visione sull'oro resta rialzista, malgrado il grande... Togliamo qua un po' di cose che altrimenti non si legge bene. Malgrado, diciamo, la botta che ha preso anche ieri, che ha preso ieri l'oro, perché ha sofferto comunque come tutte le materie prime ieri. E quindi vedete questa candela qua, l'ha riportata anche qui, guardate di nuovo sulla media 21 periodi, dopodiché è andata a rimbalzarci sopra, in questo momento diciamo l'oro sta recuperando. La mia idea sull'oro, come mi chiedeva qualcuno, resta rialzista dall'ultimo rimbalzo, da 1,685, qua 1,680, su cui proprio ieri ho chiuso il mio trade a 1,740, anzi l'ho chiuso l'altro ieri, se non ricordo male, o ieri un po', ma resta comunque, il mio trend resta comunque rialzista, quindi rotta verso 1,780, 1,8. Staremo a vedere nei prossimi giorni, anche qua, come si potrà comportare. Per il momento vedete che resta ancora molto intrappolato in questo canale, senza realizzare dei nuovi massimi e dei nuovi minimi, ma resta abbastanza laterale, quindi finché non rompe con decisione la quota di 1,740, siamo ancora un po' indecisi, ma nel lungo per me resta rialzista. Diamo un'occhiata al petrolio, togliamo questo trade che non è più valido, perché è stato chiuso un po' di tempo fa, torniamo di nuovo al petrolio, e questo siamo sul contratto del future di luglio, e vedete che anche qui il petrolio ha fatto la stessa cosa. Candela una rossa ieri, e di nuovo oggi rimbalzo sulla media a 21 periodi. Vedete, è molto curioso, diciamo, come oggi le medie, e soprattutto quella a 21 periodi, si sta rivelando molto sentita da tutti gli asset. complice ovviamente le discese di ieri. Quindi rimbalzo, in questo momento siamo abbastanza positivi, più 0,33%, secondo me qua potrebbe esserci ancora spazio per scendere un pochino, ma staremo a vedere. Sul petrolio, al momento sto abbastanza lontano, ho giusto un spread trading aperto sui contratti di dicembre-gennaio, dove sto vendendo dicembre e comprando gennaio. In questo momento anche qua è abbastanza piatto, e quindi non c'è molto movimento, sto aspettando che prenda, spero, la stagionalità e scenda, perché ce l'ho in vendita. Andiamo a dare un'occhiata anche su Bitcoin, che ieri, guardate, ha crollato anche lui, ovviamente sul sell-off, come è successo già nei mesi scorsi, quando si vendeva tutto, anche le criptovalute sono andate a picco, come qui avete visto, da queste candele qua, e vediamo un po' cosa sta succedendo. Anche qui, Bitcoin è andato addirittura a rimbalzare sulla media a 50 periodi, non l'ha neanche sentita la media a 21 periodi, sapete che le criptovalute si comportano in maniera diversa, però vedete che qua ci aveva rimbalzato diverse volte, ieri invece l'ha proprio rotta e ha usato la media a 50 periodi. Dopodiché, oggi sta rimbalzando un pochino. Io devo dire che ieri ho approfittato di questa discesa e ho accumulato alcune posizioni in previsione di nuovi rialzi. Sempre parlando dello spread trading, c'è uno spread molto interessante, questo sul mais, sul corna, dove c'è la gamba di settembre e con la gamba di dicembre, siamo a inizio stagionalità, questa è una stagionalità non molto lunga, come vedete, è abbastanza breve. Sono entrato oggi, stranamente, perché, diciamo, ha toccato i livelli che io mi ero prefisso più o meno qui. Sono pronto, potrebbero esserci qua dei movimenti ancora a rialzo, perché, vedete, questa è la stagionalità dei 5 anni rispetto a quella dei 15 anni a movimenti un pochino più più alti. Questi movimenti sono in percentuale, non sono i valori di questi numeri qua che vedete. E quindi, qua, aspetto un attimino e vedere come si comporta il prezzo, eventualmente potrei entrare con altri contratti qui sopra e aspettare che scenda. Per il momento, diciamo, le varie strategie sui vari spread trading che sto operando stanno funzionando abbastanza bene e quindi speriamo che possa andare ancora nel verso giusto. Bene, per il momento è tutto, non c'è molto altro da dirvi, aspettiamo l'apertura dei mercati americani e poi, se riusciamo, magari facciamo un aggiornamento, non so se riuscirò a fare un altro video, ma, semmai, pubblicherò un post sui vari social dove mi seguite di solito, così potrete restare aggiornati. Quindi, come al solito, iscrivetevi, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati e, come sempre, stay tuned, finger crossed. Ciao a tutti!